Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, oggi altro tentativo di format in 10 minuti e ho aumentato anche la risoluzione in Full HD, quindi fatemi sapere se il 1080 vi piace di più rispetto all'altro, se non notate troppe differenze, fatemi sapere. Oggi siamo su Star Valor, quella che sembra essere una trasposizione esatta pari pari di Elite Dangerous ma in 2D. Abbiamo la modalità nuovo gioco, abbiamo la possibilità di andare a selezionare le lingue ma non abbiamo l'italiano, abbiamo dei perk che poi ci consentono andando avanti giocando di sbloccare delle cose più belle per iniziare la partita sempre in modo diverso. Il gioco come vi dicevo è completamente in inglese quindi non è semplicissimo magari però c'è il tempo per poter leggere tutto, io adesso qua sto per esplodere quindi io mi fermo alla base e tenterò di riparare la mia nave. Il bello di questo gioco, tra l'altro non si può riparare sì, abbiamo riparato la nave, infatti vedete adesso non è più prossima all'esplosione. Il bello è che, allora vi faccio vedere subito che qua abbiamo la nostra diciamo galassia di stelle, ogni stella ha, o stella come siete abituati a dire, ha dei pianeti, praticamente delle stazioni e dei pianeti. Noi in questo momento siamo qui, adesso poi vi faccio vedere tutti i menu, vi faccio vedere come funziona. In pratica qua in alto abbiamo l'equipaggiamento della, vabbè in questo caso c'è la mining station quindi ci possiamo allontanare. Vedete che qua abbiamo quello che la nostra nave ha equipaggiato quindi tutto quello che è inserito nei sistemi della nave e qua invece sulla destra abbiamo tutto quello che c'è nel cargo. La cosa interessante, adesso prendiamo spazio così fermo completamente la nave, la cosa interessante è che possiamo demolire le cose e demolendo le cose che sono magari di una qualità tecnologica superiore a quella che possiamo montare noi guadagniamo dei punti, dei punti che vi faccio vedere. Qua intanto abbiamo tutte le statistiche, si potranno cambiare i navi, qua infatti vedete la classe. Io ho scelto gli inizi, sono molteplici e ho scelto l'inizio diciamo da minatore perché a un certo punto poi il gioco ci manda in due mappe diverse. Infatti adesso vedete che questa è la mappa del settore, questo dove siamo adesso quindi con la tab apriamo la mappa, qua vedete tutti i movimenti di navi, possiamo avvicinarci alle altre navi, comunicare e intimidire. In pratica qua abbiamo un hideout dei pirati, qua abbiamo una mining station, io ho scelto di andare qui perché l'altra, questa stazione qui, questo sistema qui invece era un sistema di un altro tipo. Io ho scelto di minare qua, mi hanno fornito tutto per minare e quindi con il tasto destro del mouse mino, col tasto sinistro sparo. Qua abbiamo il nostro personaggio, il nostro personaggio ha diverse possibilità di crescita, dall'ingegneria al combattimento, l'esplorazione, il business e il social. Dove possiamo andare a spendere questi punti, in questo caso io potrei andare a potenziare i danni, oppure l'esplorazione, quindi guadagnare più punti velocità, oppure andare nel business e quindi ottenere più cristalli, più crediti quando vado a commerciare, in pratica le solite cose. Qua abbiamo invece le conoscenze, queste sono quelle che io vi spiegavo prima perché in pratica alcuni pezzi per poterli montare è richiesto un certo livello di tecnologia ad esempio e per farlo salire dobbiamo scappare, quindi so che non me lo passerete mai questo termine, però dovete demolire dei pezzi di tecnologia superiore alla nostra, io ne ho demolito uno che mi aveva fornito una quest, ho guadagnato livello 2 e quindi posso costruire, e quindi scusate, posso montare, infatti poi nella mia nave ho montato questo, l'asteroid analyzer che mi analizza gli asteroidi. Andiamo avanti, qua abbiamo anche lo space pilot, fleet commander perché non abbiamo limiti di quante navi possiamo avere, quindi possiamo avere la nostra flotta, la leadership aumenta l'efficienza della nostra flotta, la geologia invece minando sale e definisce quanto noi siamo efficienti a scavare. I perk invece sono quelli che abbiamo all'inizio, li sblocchiamo man mano giochiamo e li possiamo selezionare all'inizio della partita, qua io faccio prospecting, faccio mining più velocemente di qualsiasi altro. E qua invece abbiamo le statistiche dove nelle varie knowledge abbiamo una percentuale di quello che stiamo sviluppando meglio degli altri, in pratica siamo a metà del social per ottenere un punto social. Qua abbiamo il quest log dove ci vengono date le missioni e qua abbiamo appunto la galaxy map dove possiamo un po' alla x3, x4, che dire si voglia, prendere questi jump gate e volare. All'inizio, allora l'inglese c'è, però se vi fermate lo capite insomma, non c'è problema. Vedete che qua, io qua in alto vedo quello che ho all'interno di questo asteroidino qui, mi dice, grazie al modulo che ho montato, quindi posso andare a scavare. Ci sono pochi blue crystal, quindi io adesso sto andando a scavare, minando, tra poco esploderà e looterò quello che ha da darmi. Quel samolo fa parte della storia ed è un bot che mi dà una mano. Ho recuperato un blue crystal, ma... Ops, vedete che ho già abbattuto gli scudi. Vedete che quando ci avviciniamo a una nave, in questo caso non voglio farlo con samolo, ma con questa nave di qua, possiamo, con la X, andare a comunicare. No, adesso non ce l'ho fatta perché andava abbastanza di fretta. Col tasto shift poi andiamo ad accelerare, quindi si può andare più veloci. E poi vediamo se trovo un'altra nave. Ops, ecco qua, c'è una nave grossa. Poi possiamo fare effettivamente quello che vogliamo nello spazio, perché possiamo decidere di attaccare navi buone, andare a caccia di pirati, si può fare quello che si vuole. Poi c'è la storia guidata, dove in pratica all'inizio ci spiegavano... Ops, mi ha partito un colpo. Non volevo, non volevo, scusate. Eh vabbè, va più veloce nettamente di noi quella nave, quindi non c'è modo di raggiungerla. In pratica possiamo decidere di commerciare quando incontriamo dei comandanti, dei mercanti. e possiamo decidere anche di intimidire qualsiasi tipo di nave. E lì, se abbiamo l'abilità giusta, possiamo intimidirla, ci lasceranno il carico. Abbiamo qua la possibilità con la Q, la E e la R di andare a potenziare un sistema piuttosto che un altro, quindi potenziare i traster, gli scudi e che dir si voglia. Invece, premendo lo shift e uno dei relativi tasti, quindi shift e Q, vado invece ad abbassare, quindi senza dover andare mai qua col mouse a toccare. Adesso vi faccio vedere come si fa a comunicare. Ovviamente è un gioco che va scoperto, va esplorato, adesso l'ho targettato, gli comunico e gli faccio un'indimidazione, però 50% di possibilità di riuscirci, io ci provo. Ok, mi ha mollato i crediti, ce l'ho fatta e ho preso i crediti. Questo ci fa cambiare un pochino quelli che sono gli equilibri dell'universo, perché in pratica abbiamo anche tutta una serie di fazioni, ce ne sono sette nel gioco, che alla fine possono apprezzarci o meno e alla fine finirà che ci attaccheranno a vista nel caso in cui non fossimo troppo simpatici a loro. Le stat, eccoli qua, queste sono le reputazioni con la Proxima Mining Corporation, quello che si chiama, il sindacato, i pirati, i venghi Ascension. I venghi Ascension sono una minaccia che attaccano la terra, in pratica all'inizio ci spiegano che i venghi hanno attaccato la terra, gli umani sono scappati, niente di assolutamente nuovo e originale. E i tecnomanti, i children della terra, in pratica, vabbè. Qui abbiamo un sacco di cose da esplorare in ogni settore, possiamo fare veramente quello che vogliamo, e ci sono un sacco di tecnologie da poter montare, tutto guidato dalla storia, poi ci indica i punti dove andare. Quindi a livello di targeting dell'obiettivo, anche noi facessimo avanti, avanti, avanti delle quest, ci segnerebbe sempre comunque dove andare, quindi non c'è nessun vincolo. Il gioco costa 12 euro ed è uscito, non è uscito, ma da più di un anno in Early Access. È un gioco sicuramente permettente perché fa comunque della semplicità, il suo punto forte, anche la manovrabilità è ottima, ma gli dà comunque una buona profondità. Quindi dire che non è sicuramente, come non lo è neanche Elite Dangerous, un gioco per tutti, non darà la stessa soddisfazione di Elite Dangerous, perché comunque si guida col mouse, con una cloche, non ci sono mille controlli a cui far fronte, però senz'altro può dare un po' di soddisfazione, perché comunque, se vedete qua, i sistemi sono veramente tanti, le stelle sono diverse e le fazioni sono tante. Quindi dovremo imparare a potenziarci la nave, magari andare anche a cambiarla, a salire di livello noi stessi. E niente, questo è Star Valor, ottime recensioni su Steam, 12,49€ in pari come costo, quindi non è neanche eccessivo. Lo trovo giusto come prezzo, poi se lo trovate a meno scontato, 6-7€, meglio ancora, perché se vi piace lo spazio, questo è il gioco che fa per voi. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao! Ciao!